Oggi siamo a Treviolo in provincia di Bergamo e siamo in compagnia di Vito Pavone che è il direttore generale del centro estetico auto Italian Design. Pavone quali sono i servizi che proponete ai vostri clienti? I nostri servizi sono dalla carrozzeria a noleggio lungo termine, a noleggio breve termine, a meccanica, a gommista e tutto quello che riguarda l'auto sia all'interno che all'esterno. Li proponete solo nella sede di Bergamo? Momentaneamente sì ma ci stiamo espandendo per tutta l'Italia e apriremo un punto zero ad Olbia dove prenderà tutto a capo la Sardegna e Tirana che sarà Albania perché per noi è un buon mercato del nostro prodotto. Voi offrite moltissimi servizi però se dovessimo individuare il vostro core business quale sarebbe? La personalizzazione, siamo nati per personalizzare e giustamente questo è il nostro core business. Il responsabile del settore personalizzazione è Vincenzo Cerrone. Cerrone come si personalizza la carrozzeria di un'auto? La carrozzeria di un'auto si personalizza con della pellicola protettiva che in questo caso è il settore wrapping e questa pellicola protettiva va a proteggere l'auto sotto gli aspetti come può essere il discorso di graffi, urti, eventi atmosferici, quindi va a proteggere molto la carrozzeria e si può personalizzare con diversi colori a scelta del cliente appunto, quindi si effettua un incontro con il cliente, in questo caso può essere un privato o un'azienda e con il privato diciamo c'è una diversificazione di colorazioni, quindi si parte magari da personalizzare una macchina di colore rosso fino ad arrivare a una personalizzazione magari particolare tipo tutta può, tutta pallini, astrisce. Mentre per quanto riguarda la personalizzazione di un'azienda è quella di sponsorizzare la sua azienda a livello sul territorio con una grafica molto particolare quindi nel campo entra la nostra creatività, la nostra esperienza per far valorizzare soprattutto la nostra azienda e proporre un prodotto che magari appunto non c'è sul territorio soprattutto a livello aziendale magari viene il cliente che ci richiede un furgoncino che magari è una pizzeria dove magari scrive pizzeria da sporto, noi gli andiamo a proporre con un rendering magari delle pizze sparse su tutta la carrozzeria quindi a rendere un qualcosa di unico appunto per il cliente. Diciamo che noi abbiamo un motto di un bel po' di anni fa che è la tua auto parla di te, faglielo fare con stile e quel motto lì evidenzia molto la nostra attività perché come diceva appunto Vito la nostra attività nasce sulla personalizzazione dell'auto quindi la personalizzazione identifica molto la persona e quando va in giro ormai è tutto un marketing, tutto a livello fisico, estetico e la tua auto è quella con cui tu utilizzi tutti i giorni quindi è quella che parla di te in sostanza. Quindi qual è il modo migliore per non personalizzarla e renderla unica, diciamo di una colorazione particolare e bella. Ecco per personalizzare l'auto voi utilizzate la pellicola, quali sono le differenze per esempio rispetto alla verniciatura? Ma la differenza tra pellicola e verniciatura è che la pellicola è un rivestimento che avviene sull'auto quindi è una pellicola che va applicata sulla carrozzeria mentre la verniciatura quella è un discorso che è diciamo molto differente dalla pellicola perché la pellicola va a proteggere la carrozzeria e quindi in caso di urto, graffi, eventi atmosferici noi andiamo a lavorare solo sul pezzo rovinato invece per quanto riguarda la verniciatura lì in quel caso lì la macchina viene verniciata completamente quindi anche a livello di costi è molto più inferiore e soprattutto diciamo che va a proteggere proprio anche a livello di col tempo la carrozzeria se un domani il nostro cliente vuole spellicolarla, un domani mi riferisco anche magari fra cinque anni perché noi garantiamo anche il prodotto, sotto la carrozzeria per assurdo rimane come nuova. Grazie mille, ci avete dato delle informazioni che saranno veramente utili a chi è interessato a personalizzare la propria auto. Grazie a voi.